E ciao, c'è il bifolco! Wow, buongiorno! Wow, sto facendo un macello! Brutti cacasotto! Ragazzi, chiamatemi pure King Kong! Salve a tutti ragazzi, siamo con un altro video, un'altra puntata, con un altro video di Fortnite, con voi Vincent Scatto dell'Orda! A squadre, ovviamente, oppure saremo da soli in pratica. Le fiere di Fortnite sono tornate sull'isola e sono più arrabbiate che mai. Lotta al fianco dei tuoi compagni e accumula punteggi da record trovando i moltiplicatori nascosti, aprendo gli speciali forzieri del bottino ed eliminando tutti i mostri che puoi. Attraverso la mappa sopravvivi a... Se vi steste domandando per quale motivo mi sono fermato e non sto continuando a leggere la descrizione, è per un semplice motivo che fra un po' vi farò vedere e vi spiegherò. Ci vediamo fra un po'? Io vado un attimo... Non ve ne andate, mi raccomando, rimanete qui perché fra un po' vengo. Non lo volevo manco chiudere. Ma vabbè. Vi spiego. Nel frattempo che metto un po' il piedistallo qui. Ma troppo un piedistallo. Non è un... Vabbè. Ci siamo capiti. In pratica mi sono scordato un imbecille, ma non era nemmeno questo, porca miseria. Ma è che questo cavalletto è un po' più basso, più o meno. Se vuol dire che non varia un cavolo. Che non cambia niente. Ma va bene così, dai. In pratica mi sono scordato, alcune volte mi è già capitata sta cosa, di collegare il microfono. In questo momento quello che state sentendo, grazie alla videocamera, alla facecam. Ma poi, il volume del videogioco, chi lo fa sentire? Non lo fa sentire nessuno. Non è che magicamente compare. Più o meno, sì. Ma neanche tanto. Certo, se magari ci muovessimo... Sono pronto per continuare a leggere. Dove eravamo rimasti? Ah, attraverso la mappa sopravvivi a tutti i luoghi da difendere e abbatti il boss finale per vincere. Riuscirai a raggiungere la fine e a registrare un nuovo record? Preparati a scoprirlo. Invitante tutto ciò. Comunque, finalmente siamo qui, dopo un po' di tempo, e faremo ovviamente queste sfide. Non penso di riuscire a farle tutte insieme, ma se dovesse accadere, splendido. Però questa è la fase 1 di 4, quindi non riuscirei comunque a fare tutto in una botta. Vabbè, cercherò di vincere questa partita. Poi avremo questa qui, questa bellissima... La freccia fa tutta violacea. Che bello. Invitante. No raga, già come... Già all'inizio è una bomba, giuro. Oh mio Dio, ma cosa non è? In pratica questa è come se fosse la modalità storia di Fortnite, però implementata nel Battle Royale. C'hanno addirittura messo le musiche, madonna che divertente. No raga, sarà divertentissimo. Ok, ci dobbiamo muovere perché dovremmo incominciare a sparare. Aspettate, ma cos'è sta roba? Oh mio Dio. Ok. Oh! Oh hanno rimesso queste Oh Ah vabbè è vero non fanno danno a noi Che cavolo faccio Oh Cavolo 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 Rando uno Fatto Ah Ah cavolo C'è un po' Oh Ah Grandioso Oh Cavolo 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 Oh mio dio quanti ne sono Oh Ah Cavolo Cavolo Ok round 2 Tutti vivi? Ma io non c'ho più munizioni Ma che ca... Ragazzi Oh mio dio ci sono quelli di ghiaccio Si vabbè io che non c'ho munizioni come dovrei fare? No raga Ok devo assolutamente andare qui Devo fare veloce Grazie mille Oh salta Ah questo è un bel problema Oh cos'è questo? Voilà Aspettate lì ce n'è un altro Se riuscissi a prenderlo Cavolo Oh cavolo Cavolo Eh la madonna Ma che cos'è che si è formato qui? Ragazzi qui non va assolutamente bene Ma sto facendo un macello Ecco Cavolo Cavolo raga Ero io contro mille Cosi qui Vabbè Di cosa stiamo parlando Ragazzi Chiamatemi pure King Kong Cioè cosa vi ho fatto? Oh? Ma e che è qua? Wow Attento tu con quel coso Potresti ammazzarci tutti Oh Cos'era questo? Ah ok Sì Comunque è bellissimo che hanno modificato alcuni Di questi aggeggi Oh Wow Wow Eh caro mio Siamo nei guai 26.000 punti Dai Non sono ciò che mi aspettavo io però Dai raga ce la dobbiamo mettere tutta Ah 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 oh cavolo ahhh cavolo cavolo no via cavolo cavolo come si fa cari ragazzi non ce la faccio no raga ma come si fa no vabbè raga ma è impossibile alla fine si restringe troppo però la zona come cavolo si fa poi non è nato nemmeno un cavolo di forse perché dobbiamo sparare di più alle alle fire la del alle fire dell'est vabbè poi raga ovviamente cercherò di farle maggiormente non col video cioè registrando mannaggia ma seria norra da che parte ma porca miseria stavo pensando a fare una cosa non ho manco luttato niente madonna o sarà rimasto qualcosa c'è un cacchio mamma mia non ci posso credere vabbè prendiamo questi cosi no 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 voilà no fammi prendere le armi no che non ho niente sto facendo un macello no fatemi prendere qualcosa oh sai io non ho niente aiuto mio dio abbiamo fatto un macello da non avere niente me la stavo vedendo proprio brutta più che altro per il fatto che comunque non avevo niente ok ragazzi siamo a 4000 punti purtroppo non è tanto no forse mi convene conveniva a prendere le bo dacce me o dacce oh giovane guardate quanti ne sono ah quanto siete belli salve quanta bella gente vedi quello che vola oh guarda un po' chi c'è qui c'è il bifolco via via ma è però che mi avete incastrato qui non è valido non è valido non è valido non è valido vaffan dai e buonanotte cambiato postazione di luce siamo a 17000 punti una bella cacata oh buoni eh grazie buoni 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 dovete star no vabbè raga ma fa un male della madonna ma poi guardate in che spazio dovremmo giocare no ma cioè è incredibile come si fa perché poi si restringe troppo e ciao mamma mia facciamo l'ultima partita eh ma bravo l'intelligente che sono veramente vi stareste domandando per quale motivo mi trovavo là sopra eh bella domanda mi trovo un po' a fare due cose a parte giocare oh cavolo eppure vai vai ce n'è per tutti oh cavolo no che mo' mi incastrano adesso cavoli amare scusate ragazzi ma sto facendo come vi ho detto due cose e tra l'altro i miei compagni mi hanno abbandonato vero cioè è bello vero sti cacchi di cespulli e che ci vede niente oh cavolo no no che se poi mi incastrano so cavoli amari no e che cavolo datemi un po' di tregua che quella videocamera si sta rimbecillendo niente sei rimbecillita tenetevi queste tenetevi queste ok una sfida è fatta ma non quella questa no dai ma c'hai tutto da caricare tu oh buongiorno no mi sono bloccato per colpa del ghiaccio l'anima tua e quante le tieni oh raga sono riuscito a fare non so quante cavolo di di cose no brutti ceffi no 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 brutti brutti cacasotto no dai dai mi sono veramente fatto fregare così ma avevano buttato giù cos'è che ho preso bella lì vediamo un po' quante ne abbiamo fatto oh 42% cosa ho fatto elimina membri dell'orda con colpi alla testa elimina fire velenose o brutti esplosivi da almeno 5 metri di distanza il danno genera obelischi e basta ci ho fatto molto di più di quanto avessi fatto insieme agli altri vabbè ma perché alla fine se stai da solo li ammazzi tutti tu cioè è vero è complicatissimo sì però riesci a fare un botto di cose comunque questa era la grande modalità continuerò anche senza registrare io spero che questo video vi sia piaciuto è stato divertentissimo anche se è un casino enorme soprattutto alla fine che c'è il boss che ti fa un danno enorme casino di vita e devi stare a pensare alla tempesta che si chiude sempre di più ai mostri che si generano che nascono sempre dalle fire dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò se così è stato mettete un bel mi piace commentate e iscrivetevi se non è ancora fatto salve buonanotte più che altro ragazzi o almeno vabbè quello che è